La domanda è molto figa perché hai scelto Villata, potrei darti una risposta molto figa pensando a tutti coloro che mi vedranno, raccontando mille storie su Villata, Villata occupata, gli anni di piombo vissuto a Villata, eccetera eccetera. In realtà la risposta è molto più romana, l'ho scelta perché è vicino casa e oggi avevo proprio voglia in prospettiva del tour di fare le mie belle orette, due belle orette di mountain bike qui a Villata. Scusate ma la sincerità. Io sono nato, vivo da sempre a Roma, è una città che non lascerò mai, sono partito tante volte ma sono quelle partenze che sono belle proprio perché sai che c'è una casa che ti aspetta e quella casa oltre alla famiglia si chiama Roma. Roma non è sempre rilassante, Roma non è come tutti pensano sempre, voi siete ironici, fate la battuta, noi facciamo la battuta se ce va, ma a volte anche no, possiamo anche essere molto scuri, duri, antipatici perché Roma è questo, Roma è tutto e il contrario. Però lo è da più di 2000 anni ed è ancora qui, per cui evidentemente vuol dire che nella vita bisogna sapere raccontare tutte e due le anime, quella più scura e quella più solare. Non a caso in scaletta c'è un pezzo molto solare che è quello che fa Vengo dal Colosseo, col Vespino, Rosso, Bordeaux che è un brano mio storico del 2000 che parlava di giubileo, tra l'altro è tornato insomma d'attualità visto che a breve ci sarà il giubileo deluxe edition. E subito dopo c'è invece Sette Vizi Capitale che racconta sempre Roma ma lo fa in maniera diametralmente opposta, è una Roma disincantata, cinica, scura. Lo faccio insieme a un gruppo che mi piace tantissimo e gli amici del Muro del Canto e insieme abbiamo realizzato questa canzone il cui video in piano sequenza è stato girato al MAM, Museo dell'Alto e dell'Altrove di Metropolis, a Via Prenestina 913, quartiere d'Orsapienza che è uno di quelle barricate dell'arte dove appunto l'arte difende e racconta un pezzo di Roma oggi, un pezzo che tenta di essere strappato all'ennesima speculazione di Lizzi. Se c'è un aggettivo che mi viene in mente in ambito musicale è quello dell'invidia che ha sempre distrutto questa città, può valere per la bottega, i locali della notte o anche gli artisti, spesso si è sempre pensato al proprio piccolo giardino a discabito invece di un parco, ecco a me piace più il parco, nel senso nessun pezzo è mio però me lo posso godere nella sua grandezza. Non mi piace il talent, questo insomma si evince da sé, non è che era un titolo tanto fatto per, e perché l'ho fatto adesso anche se come concetto ce l'ho da sempre, l'ho fatto adesso perché recentemente mi hanno offerto in questi ultimi anni di partecipare a parecchi reality o talent, poi qualcuno dice no ma il reality è una cosa e il talent è un'altra, vabbè ve lo raccontate, ve la suonate, fate quello che vi pare, tanto per me è la stessa cosa. Ho rifiutato l'isola dei famosi per due volte, ho rifiutato un programma musicale che c'era qualche anno fa che si chiama Music Farm, ho rifiutato la talpa mi pare che si chiamasse, la talpa la cerchiamo qua a Villato, ho rifiutato di andare al Grande Fratello a cantare quando vinse Floriana, devo cantare la Grande Onda, perché devo sprecare la Grande Onda al Grande Fratello? Provo che hanno ucciso più talenti, talent che l'eroina per quanto riguarda la musica, tanti ragazzi che col tempo, con la giusta calma, col modo di vivere la musica che dovrebbe essere letto a unico metodo, cioè quello della felicità, della creatività, della condivisione, dello stare assieme e non della competizione, del pianto, del dramma, del fallimento, tanti talenti sono stati bruciati perché non sempre il saper stare immediatamente davanti a una telecamera vuol dire essere il migliore artista, non sempre il saper eseguire perfettamente una cover, cioè ovvero fare un grandissimo karaoke a livello scenografico vuol dire essere il migliore artista. Alcuni colleghi hanno fatto talent come Fedez e J-Ax, Fedez è molto più piccolo, non mi esalta come artista, trovo anche incoerente fare la canzone per il Movimento 5 Stelle, poi fare l'uomo immagine di Sisley che vi ricorda del gruppo Benettono, quello dell'autostrade e quindi si ricollega al 5 Stelle ma in senso totalmente antitetico, quindi trovo insomma un'incoerenza di fondo. Mi dispiace più per J-Ax perché è un amico, un artista che c'era da tanti anni, secondo me non aveva alcun bisogno, è anche vero che adesso è un grandissimo successo, probabilmente anche grazie ai talent, dici anche cose di peso tipo quelle contro Matteo Salvini che approvo in pieno, grazie anche alla forza del talent che è dietro, trovo che però insomma sia consapevole che il talent che fa The Voice, l'unico successo che porta lo porta ai giudici, gli unici soldi che porta li porta ai giudici e la prova qual è? Che la stessa ragazza che lavorava con lui, Suor Cristina, il mio consiglio ai talenti è uno solo che è fondamentale, non fate mai talent, cioè se avete un talento e volete bruciarlo fate il talent e sicuramente lo bruciate a 99,9, poi uno su un milione, manco su mille ce la fa ma anche lì ce la fa come finché c'è tutto il carrozzone dietro, come il carrozzone si sfila probabilmente non sarete in grado di stare in piedi da soli, e l'altra cosa perché l'industria del talent come ogni industria prevede una regola, il prodotto precedente va eliminato perché deve fare spazio al prodotto successivo, per cui le vostre vecchie sneaker vecchie di 6 mesi devono risultare da sfigati, da vecchi, cioè voi dovete avere sempre questa insoddisfazione, questa fame e volete la scarpa nuova, invece a noi della scarpa nuova, lei c'ha le superga che sono proprio old school dagli anni 60, non ce ne frega niente, per cui insomma andiamo più al contenuto, all'essenza della persona che non all'estetica. A tutti i nemici di fanpage, ma nel senso buono perché nemici, amici, dipende sempre da che parte si guarda il mondo, per cui a tutti i nemici, in questo senso positivo di fanpage, l'odio del nemico è cascato anche il cd, un saluto da Tommaso alias Piotta, a presto ci vediamo live con tutta la band per il nemici tour.